Ciao a tutti, va da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra regione dell'auto in compagnia della fratelli Cozzi e accanto a me Roberto Cozzi. Ciao Rosi, ciao a tutti. Siamo in mezzo a tantissime vetture, questo vi fa già capire quanta scelta potrete avere, ma soprattutto con te, Roberto, abbiamo creato una rivoluzione, direi. Sì, penso di sì Rosi, penso di sì, hai ragione, hai ragione. Sono in tantissima a rivolgersi a te, a voi come fratelli Cozzi per acquistare la vettura perché hai inventato questo modo che è completamente nuovo. Ma Rosi, guarda, parlare di sempre nuova e quindi parlare di quello che ti costa utilizzare la vettura tutti i giorni è quello che poi interessa a tutti gli automobilisti, cioè dire a un automobilista che con 6 euro al giorno prende una Lancia Y o una Panda e ha tutto compreso, è quello che l'automobilista si aspetta. Quindi questo canone che comprende manutenzione, assicurazione, cambi gomme, auto sostitutiva, è un canone che tranquillizza. Direi di sì. Io so tutti i giorni cosa mi costa accendere la mia automobile e utilizzarla con un vantaggio che non è una vettura a noleggio ma è una vettura in proprietà. Quindi pago un canone per avere la mia vettura che compro e vendo quando voglio e ho tutto compreso. Questa è la cosa che affascina i nostri clienti, assolutamente. Assolutamente, li affascina, li tranquillizza come hai detto tu perché la vettura è di vostra proprietà. Per cui la utilizzate un anno, decidete come ha detto Roberto di venderla, lo potrete fare mentre con il noleggio non è così. E poi soprattutto avete questo canone con un costo di guida giornaliero certo, sicuro, con tutto questo compreso. E fra l'altro la cosa più interessante ancora di tutte, anche se già questo è molto interessante, lo potrete fare non solo sulle vetture nuove come capita con il noleggio ma anche addirittura su vetture aziendali, chilometri zero. Scegliete anche il vostro usato che abbiamo a stock e abbiamo 250 vetture a stock quindi la scelta non manca. Non manca. E potete creare il vostro canone tutto compreso anche su una vettura usata. Questa è una cosa veramente, veramente eccezionale di cui ne andiamo fieri e orgogliosi. Intanto avviciniamoci a queste vetture in modo che possano vedere la scelta perché è infinita, passa dalla banda. Sì, abbiamo dall'utilitaria alla berlina di prestigio. Chiaramente su tutta la gamma dei prodotti FCA noi facciamo questo sistema, quindi parliamo di Fiat, di Lancia, di Alfa Romeo e di Jeep. E di Jeep. Tutti modelli di nuova generazione, assolutamente. Non dimentichiamoci poi che siamo prima scelta BMW e prima scelta Mini. Quindi anche su tutte le vetture chilometri zero aziendali di BMW e Mini questo sistema è quello che in questo momento è il più richiesto. Perché comprare una BMW, per esempio questa bellissima 218 Active Tourer, sapendo che con 9 euro al giorno io ho risolto tutti i miei problemi perché ho già pagato tutto quello che serve a una vettura e lo ripetiamo, manutenzione, cambio gomme, assicurazione, autosostitutiva. Cosa manca? Non manca niente. Niente? Non manca niente. Manca solo semplicemente che veniate a scegliere. Manca solo sceglierla, bisogna solo sceglierla e basta. Scegliete la vettura che desiderate, naturalmente avrete l'opportunità di parlare con uno dei consulenti alle vendite e avrete l'opportunità anche di pagare così poco al giorno per avere tutto compreso in questo canone che è veramente straordinario perché parliamo veramente di cifre molto basse, molto piccole per avere l'opportunità di accontentarvi, di prendere anche una vettura che magari desideravate da tempo e non potevate permettervi. In questo caso, in questo modo, lo potrete fare. Per cui venite qui, scegliete la vostra vettura e avrete l'opportunità appunto di usufruire di sempre nuova. Questo vuol dire avere sempre una vettura nuova e ve lo potete permettere in questo caso. Bravissima Rosy, devo dire che sei diventata più brava di me a spiegarlo. Fantastico, fantastico, grazie Rosy. No, vuol dire che sei stato bravo naturalmente a spiegarlo. Io ho capito perfettamente come spero abbiate capito anche voi, quindi venite qui a farvi fare un preventivo. Ma ora, Roberto, direi di dare la parola ai tuoi collaboratori in modo che possano anche presentarci qualche vettura nel dettaglio. Fantastico, grazie. Buonasera a tutti, eccoci qui ritrovati alla Fratelli Cozzi, sono Valerio. Oggi vi mostrerò qui accanto a me le nostre auto city car. Abbiamo delle Panda, delle 500, delle Y, che poi dopo andremo anche nell'altro reparto a farvi vedere. Qui accanto a me ho, ad esempio, delle Panda aziendali e chilometro zero. Sono automobili per la città, automobili per tutti, anche per neopatentati. Sono auto che chiunque può guidare. 1.2 69 cavalli benzina, Euro 6D, l'ultima classe di emissione, che vi danno modo di utilizzare l'auto. Se usufruite, decidete di usufruire del pacchetto sempre nuova, ovvero un pacchetto che vi dà modo di acquistare la macchina, a godere di un servizio di manutenzione ordinaria prestabilita, con delle polizze, furto, incendio, atto vandalico, inventi naturali, cristalli con zero scoperte e zero franchigie, potete dare a un neopatentato un'auto da utilizzare senza la paura dei costi di ripristino, perché qualora dovesse creare un disagio all'automobile sarete pronti a ripristinarla senza costi aggiuntivi. Quindi avete qui accanto a me questa Panda, ad esempio potete acquistarla con soli 6 euro giornalieri, dare una macchina a vostro figlio, a vostra figlia, a voi stessi e utilizzare un'auto per andare a lavorare e per fare le commissioni di ogni giorno. All'interno ho sempre delle automobili, delle Panda di vario genere, sia Lounge, Easy, City Cross, anche le Wind, che sono un modello particolare, un modello molto carino, con delle rifiniture leggermente diverse, nero-lucide, che rendono la Panda ancora più sportiva sotto l'aspetto della City Cross. Eccoci, come vi ho accennato poc'anzi, vi mostro ora, oltre alle Panda come City Car, le nostre Y, le nostre 500, abbiamo diversi allestimenti, dal Gold all'elefantino, la 500 Pop, la 500 Lounge, sia aziendali che chilometro zero, in entrambi gli allestimenti, per entrambi gli automobili. Costa un pochino di più rispetto a Panda l'utilizzo giornaliero, qualora doveste decidere di acquistare con la formula sempre nuova le vetture, rispetto a Panda che costa all'incirca solamente 6 euro, per Y siamo sui 7, per 508 euro giornalieri. E all'interno avrete, col pacchetto sempre nuova, anche il doppio treno di gomme, quindi le gomme invernali, oltre alle gomme stive, che in caso di acquisto, in questo momento che siamo in inverno, vi verranno montate e consegnate le stive a ritiro. Avrete all'interno il pacchetto di manutenzione ordinaria, un'estensione di garanzia fino ad 8 anni, un pacchetto con furto, incendio, atto vandalico, eventi naturali, il tutto col valore garantito a fattura per i primi 24 mesi, e con 0 scoperti e 0 franchigie per il atto vandalico, grandi, eventi naturali e l'infortunio conducente. Continuiamo la nostra carrellata con delle Giulietta fantastiche, appena arrivate e le indico, sono queste due. Sono due Giulietta, 1.4, 120 cavalli, turbo, benzina, allestimento sport, delle vere chicche da venire a scoprire qui da noi, profili rossi, pinze rosse, cerchio da 18, diamantati, neri, auto con minigone, un riferimento veramente carino, aggressivo, sportivo per dei ragazzi che vogliono apparire e questa è la macchina che fa per loro. Qui accanto abbiamo sempre una Giulietta, 1.4, 120 cavalli, turbo, benzina, un allestimento intermedio, ma accanto vi propongo la regina della Giulietta, l'allestimento veloce, un'automobile che vi saprà dare tantissime, tantissime emozioni. Un'auto con pochissima strada, un'auto pare al nuovo, tutta da scoprire. Le nostre Giulietta sono proposte con un canone mensile giornaliero, giornaliero, di circa 13 euro, ovviamente a partire da, in base a quella che sceglierete, il canone sarà modellato secondo le vostre esigenze, con l'acquisto del pacchetto sempre nuova potrete acquistare un'auto di un segmento molto aggressivo, un'auto competitiva, un'auto completa, con dei costi di gestione molto molto bassi. Qui abbiamo una tipo aziendale, un allestimento lounge, 1.6, 120 cavalli, con navigatore e telecamera. Un'auto con pochissima strada, le giudicate voi come si presenta. È un'auto completamente pare al nuovo, un'auto che con soli 11 euro, a partire da 11 euro, sarà vostra al giorno. Oltre a questa, all'esterno, nella esposizione esterna, abbiamo anche delle station, abbiamo delle berlina, abbiamo auto che fanno al caso vostro. Vi invito a venire a trovarci, a vederla, in Viale Toselli, numero 46, Legnano, da Fratelli Cozzi. Io sono Valerio e ora lascio la parola alla mia collega Moira, che vi presenterà BMW Mini e il resto delle nostre automobili. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Valerio. Io vi parlerò della gamma Jeep in questo momento. Abbiamo diverse vetture, Renegade, Compass, Cherokee, tutte aggredibili dal nostro famosissimo, ormai sempre nuova, che è similnoleggio, tutto compreso, dove abbiamo inclusi i tagliandi, l'estensione di garanzia, un altro treno di gomme, la vettura sostitutiva e tutta la parte assicurativa legata alla vettura, quindi furto, incendio, attivandalici, sociopolitici, cristalli, grandine totale, tutela legale e un valore garantito vettura per 24 mesi. Entrando nel dettaglio, per quel che riguarda Renegade, abbiamo più o meno tutte le cilindrate, sia cambio automatico che manuale, sia benzina che diesel, dai 13 ai 14 euro al giorno, sempre con il nostro sempre nuova. Per quel che riguarda Compass, anche in questo caso abbiamo vetture sia benzina che diesel, cambio automatico e manuale di diversi colori, sia chilometro zero che aziendali, perché il nostro sempre nuova può prendere entrambe le categorie, quindi sia le vetture usate che le chilometro zero, che anche sulle vetture che eventualmente vorrete ordinare a nuovo, con un canone giornaliero tutto compreso dai 15 ai 18 euro al giorno. Tutto compreso, ovvero ricordiamo, tagliandi, gomme, estensione di garanzia, vettura sostitutiva più tutta la parte assicurativa legata alla vettura, quindi furto, incendio, attivandalici, sociopolitici, cristalli, casco gomme e un valore garantito vettura per 24 mesi, qualora sfortunatamente vi rubassero la macchina nei primi 24 mesi di contratto. Abbiamo anche un vasto assortimento di sciarocchi, anche queste in diverse cilindrate, diversi colori, sia cambio automatico che manuale, chilometro zero aziendali e anche la possibilità ovviamente di ordinarle come più vi piace, tutti aggredibili dal nostro sempre nuova. Ovviamente da Fratelli Cozzi non ci facciamo mancare nulla, quindi abbiamo anche una vasta scelta di BMW e Mini, anche queste di vario tipo, quindi sia benzina che diesel, cambio automatico, manuale, serie 1, serie 3, tutte le X, X1, X2, X3, insomma, tutto quello che volete qui è sempre disponibile, sempre con dei canoni mensili, ovviamente in base alla macchina che sceglierete, che può essere dai 13 ai 20-25 euro al giorno, tutto compreso sempre con la nostra formula sempre nuova, quindi tagliandi, essenzione di gorenzia, gomme, vettura sostitutiva, mini collisione e tutta la parte assicurativa legata alla macchina di cui abbiamo già parlato prima, quindi furto, incendio, attivandalici, sociopolitici, cristalli, grandine totale, tutela legale, casco gomme, rifacimento chiavi e quant'altro. Il mio collega Valerio vi ha parlato di tutte le piccoline, ma ovviamente per quel che riguarda la gamma Alfa Romeo sono presenti in azienda anche Stelvio e Giulia con un canone giornaliero tutto compreso dai 20 ai 25 euro al giorno, dove abbiamo sempre tagliandi, vettura sostitutiva, gomme, essenzione di garanzia e tutta la parte assicurativa legata alla vettura. Per qualsiasi tipo di informazione e per avere un preventivo più dettagliato sulla macchina che scegliete non esitate a contattarci o a venirci a trovare sempre sul Viale Toselli 46. Buongiorno, senta, sarei interessato a quella macchina? Prego, venga. Grazie. Signorina, premetto che pago tutto in contanti, eh? Non c'è nessun problema, può pagare come preferisce. Certo, ormai non lo fa più nessuno perché 8 macchine su 10 le vendiamo con questa formula. Conosce sempre nuova? Quelle formule tipo il noleggio, dove dentro c'è la manutenzione, le gomme... A conti fatti è la formula più conveniente rispetto al pagamento in contanti. Guardi signorina, io sono a posto così, ho mio cugino che fa il meccanico e mi prende 70 euro un tagliando. L'altro mio cugino, quello di mia moglie, fa il gommista e mi prende 70 euro per le gomme. Luna? No, tutte e cinque, anche quella di scuola. Ah, fantastico, quindi è fortunatissimo perché oltre ad avere delle persone di fiducia che la seguono, spende anche poco, perché immagino che spenda poco. Non ho mai fatto i conti bene, però credo di sì, sì sì. Certo, quindi comunque il prezzo le va bene? Sì sì sì, il prezzo mi va benissimo. Vado a prendere il libretto della mia macchina? L'aspetto. Eccomi. Quanto ha detto che mi faceva? Mi sa che aveva ragione. Con sempre nuova hai inclusi manutenzioni, pneumatici, garanzia e assicurazioni. Goditi la parte più bella della tua auto.